Ciao Bull Family! Allora, vediamo di partire. Quindi mi metto gli occhiali e qua abbiamo Bitcoin nel daily e Bitcoin nel mensile. Ci tocca mettere il mensile per vedere che ha sorpassato il primo all time high dal ciclo precedente, dall'alving precedente, che fra l'altro qua aveva fatto una bellissima conformazione e poi dopo esploso. Questa volta abbiamo una conformazione molto molto scarna, comunque è un terzo tocco, questo è il mensile, ma insomma sarebbe stato meglio avere una bella conformazione, un po' più lunga, invece qua proprio siamo andati to the moon. Dopo l'ETF effettivamente c'è stata la fila e la FOMO e poi andremo a vedere i mercati cosa stanno facendo, ma ha superato senza esitare anche i massimi delle prime all time high, adesso abbiamo il secondo che sono gli all time high di sempre, quindi i massimi, manca veramente pochissimo. Siamo a un soffio, adesso siamo a 67.000, 67.000, ha fatto, sì, 67.300, vabbè. E niente, siamo quasi agli all time high, però vedrete, come vedete qua c'è veramente un dritto per dritto. Nel daily abbiamo visto che abbiamo fatto diversi step, questa è la prima conformazione, almeno avevamo su Lema 5 daily, poi ha fatto la prima sosta dove ha fatto un bellissimo terzo tocco, nonché la finta poi del Viagra, adesso siamo di nuovo in alto dove ha fatto un terzo tocco, ma in realtà è un secondo tocco, qua quando segna il terzo tocco significa che deve ancora fare il terzo, quindi qua il secondo ha rotto, però siamo già al terzo step, primo step, cioè prima rampa, seconda rampa, terza rampa, e mi sa che va a assaggiare i massimi, sperando che sia un secondo tocco e poi dopo ci va a fare il manico, quindi questa sarebbe una mega tazza con un manico, ok? Perché così insomma avrebbe un po' più senso. Ah, una cosa che cosa volevo dire? Allora, avete presente questo? Ve l'ho fatto vedere già diverse volte. Questi sono gli Alvin storici, ok? Allora, ho scaricato, sempre su TradingView, il grafico più distante, più storico che c'è, che parte dal 2010 addirittura, 2011. Andrò a inserire questi dati e farò un video probabilmente in settimana, tipo giovedì o venerdì, o comunque poi magari verrà pubblicato nel weekend, vediamo, dove andrò a mettere tutti i dati e andremo a studiare tutti i livelli dall'Alvin in poi, cioè appena fa l'Alvin cosa succede, le conformazioni. Poi un'altra cosa utile, questa volta qua abbiamo avuto la prima volta che ha fatto i minimi sotto i massimi dell'Alvin precedente, ok? Dopo vi spiegherò tutta questa cosa, farò questo mega video, quindi se non siete iscritti a YouTube iscrivetevi, e così cerchiamo di capire, però adesso appunto sarebbe meglio che scendesse un attimino prima, ok? Magari ormai, ormai che qua faccia questo assaggio 69.000, magari va a toccare anche 70.000, ma dopo ci vorrebbe riposo prima di fare tutto il resto. Allora perché è importante poi seguire, ah oggi c'è l'esempio bellissimo di perché usiamo Bitcoin come indice. Allora qua vedete Bitcoin, time frame un'ora, e qua abbiamo Pepe, time frame un'ora, ok? Dalla conformazione, graficamente, sembra che addirittura Bitcoin sia cresciuto di più di Pepe, ok? Sembra che abbia fatto molto di più, perché è un più dritto per dritto, qua perlomeno un po' riposato, parte più o meno dallo stesso periodo, e invece Bitcoin ha fatto l'8%, questo è time frame un'ora, quindi tutta questa salita è l'8%, questo è sempre time frame un'ora, vedete qua, ma ha fatto il 109%, quasi il 110%. Quando le persone ti chiedono come mai usiamo Bitcoin come indice, questo è un esempio che potete capire anche voi, ok? Quindi noi usiamo Bitcoin per capire il trend, ma poi andiamo su quelle cose che sono più forti, hanno una capitalizzazione più bassa, quindi hanno bisogno di meno soldi per potersi muovere, e noi operiamo su quelle cose lì, ok? Quindi nello stesso periodo Bitcoin ha fatto l'8%, Pepe ha fatto il 110%. Se poi il ragionamento che mi voglio agganciare a qua, capiamo che possiamo andare a fare nuove volte mai, a noi cosa conviene capire? Allora, io sono 22 anni, 23 anni in aprile, farò 23 anni in aprile in cui faccio il trading, ho visto di cotte e di crude, quando siamo in bull run c'è una cosa in particolare che cade solo nel bull run, ok? Che c'è la rotazione, ok? Non c'è gli all time high solo di una cosa, ok? Lì non puoi chiamarlo bull run se c'è solo una cosa o poche cose in all time high. La bull run c'è quando ci sono tante cose in all time high, ok? E inizia la rotazione, quindi poi quelli che non sono ancora partiti, partono e a rotazione si fa questa cosa, ok? Una vera bull run si denota proprio da questo fatto qua. Quindi da qua nasce il fatto di fare, di creare questa lista che si chiamerà qua, 1000%, ok? Quindi adesso finisco un attimo l'analisi tecnica, poi dopo andiamo a cercare le conformazioni e riempiamo quello lì, ok? Riempiamo una lista. Detto ciò, quindi qua come siamo messi? Mettiamoci tranquillamente a time frame un'ora, qua togliamo, togliamo Pepe, togliamo questo su Pepe. Ah ragazzi, comunque vedete, sentite bene, giusto? Allora, Bitcoin, quindi mettiamo time frame un'ora, vedete, come avete visto prima, sta comandando l'EMA10, adesso appena arriverà, eccola qua l'aggiornamento, comanda l'EMA10, comanda l'EMA10, quindi attenzione perché un'altra cosa che è caratteristico delle bull run, voi pensate che sia molto semplice, basta comprare e tutto va su, non funziona così, ma ci sono anche delle discese molto rapide, ok? Ne avete già viste due o tre, questa è una per esempio, ma li vedete soprattutto sulle altcoin, cioè sulle alt veramente hanno fatto, fanno delle robe molto potenti. Ora, senza andare troppo lontano, vediamo a time frame un minuto, già solo bonk, comunque dai massimi, così è andato direttamente, ha fatto un meno 17%, questo è un time frame in 5 minuti, se lo vediamo a time frame un'ora, però vedete che ha fatto direttamente nuovi massimi storici, direttamente all'EMA5 daily, ma c'è stato l'altro giorno, vediamo se riesco a trovare un esempio, comunque c'è stato qualcosa che ha fatto il meno 45%, attenzione ragazzi, è fondamentale per chi fa trading usare sempre gli stop loss, ragazzi, mi raccomando, sempre importante perché ci sono queste oscillazioni molto rapide, quindi bisogna fare assolutamente attenzione, c'era qualcosa che l'altro giorno aveva fatto proprio il meno 45% in pochissimo, comunque stiamo parlando di all time frame, guardate, comunque qua stiamo parlando di Shiba, Shiba invece non c'è ancora andato ovviamente, però bonk, bonk assolutamente sì e se guardiamo il daily, molto interessante perché cercheremo anche questi che prima, tempo fa hanno fatto degli all time high, poi sono andati a riposare e noi le andiamo a ricercare, quindi metteremo anche loro nella lista dei mille, vediamo cosa salta fuori. Allora torniamo indietro un attimo, che facciamo? Due secondi, fino alla analisi, quindi time frame un'ora Bitcoin è molto dritto per dritto, quindi da tenere assolutamente d'occhio l'EMA10, la rottura dell'EMA10 può creare spike molto improvvisi, perché dopo c'è tanto spazio nel lema dopo, ok? Pensa per andare poi a testare l'EMA5 daily c'è tanto spazio e visto che l'EMA10 comanda da tanto è come se caricasse tanta energia, dopo rischia di controllare. Ragazzi siamo in 320 live, spettacolo, live su Twitch, andiamo a vedere però gli altri. Nel frattempo abbiamo Ethereum che invece vedete è molto più lento, qua è il time frame un'ora, va giù molto meno, ok? Questo è proprio Bitcoin Coin che sta andando to the moon, guardiamo il daily, il daily comunque ha rotto anche lui il suo livello, però abbiamo anche qua sempre il daily to the moon, quindi attenzione, BNB che sta riposando invece, non sta festeggiando oggi, quindi BNB molto lento, XRP, niente, ADA, ADA continua ad andare, ma siamo lontanissimi comunque ADA dagli all time I, ok? Sol invece, insomma siamo più o meno a metà strada, però anche questo è un altro che ha fatto veramente, è già cresciuto tanto, bisogna riposare di più, ok? Bene, detto che, ah poi abbiamo Flochi, nuovi all time I, guardate che roba, guardate che roba, Flochi ha già fatto gli all time I, quindi abbiamo avuto questa settimana qua, questa settimana, questo è il settimanale, solo la settimana scorsa ha fatto il 300% Flochi, ok? Questa è una candela del 300%, 300%, Pepe, questa è una candela del 330%, ma sta ancora andando, questo era uno degli all time I, ok? Capite ragazzi perché abbiamo Bitcoin come indice? Siamo nella follia, ok? Andiamo a cercare questi che possono andare in pozzina, ok? C'è la rotazione, adesso siamo con le meme, meme coin, quindi abbiamo Shiba però che non è in all time I, è ancora lontanissimo, vediamo se riusciamo a trovare una conformazione anche per Shiba, adesso ovviamente non c'è nessun tipo di conformazione, a time frame un'ora invece ne abbiamo avuto, abbiamo avuto questo che non era niente male, ok? Questo che era comunque un bellissimo terzo tocco, quasi un quarto tocco, quindi sempre una conformazione, sempre una conformazione, ok? E se pensate che sia facile, mi accodo fra l'altro con la Bull Competition che è partito, c'è ancora due giorni e 15 ore per potersi iscrivere, ma i ragazzi sono già partiti, c'è già un più 67%, 45%, 36%, ma vi voglio dire che io non sono contento della prima edizione, ok? Il mese scorso io non sono assolutamente contento perché io seguivo tutti i giorni la chart e c'è gente che è passato dal più 180% a non essere più in classifica, quindi è sceso sotto il 50%, ragazzi lo stop loss è fondamentale, non dovete puntare sul gambling o usare o usare leve grosse, ok? Non ha senso, non vincerete mai questa gara qua, ok? Dovete, tante persone mi hanno scritto, mi hanno spiegato, che hanno sbagliato a completamente tattica, poi per cercare di recuperare alzavano la percentuale di leva, ragazzi non si fa, dovete stare rilassati, qua vince chi è rilassato e chi è costante, ok? Ragazzi questi qua, voi tre che siete già i primi tre in classifica e devo ancora partire, sono solo i primi giorni, c'è ancora due giorni per iscrivervi, ragazzi rilassatevi, ok? Diventate sempre più, quando siete in game diventate sempre più difficili, ok? Sempre di più, fra l'altro, cioè aspettate anche le conformazioni, le finte, aspetta vi faccio vedere Shiba, per esempio, Shiba, time frame 30 minuti, avevo visto una, eccolo qua, qua, adesso caricarà le, caricarà le name, qua, time frame 30 minuti, allora, fossi in voi, cercherei le conformazioni quelle un po' più sicure, qual è una conformazione un po' più sicura che evita, ti fa evitare le finte? Una conformazione che ha già fatto la finta, ok? C'è una conformazione che ha già fatto la finta? Sì, per esempio, qua stiamo parlando di un maxi bad, quindi stiamo parlando di massimi di giornata, toccata una volta, due volte, la seconda volta la rotulio del bad è stato fintato, la terza volta, guardate cosa ha fatto, è andato to the moon, ok? Quindi, iniziate a diventare più selettivi, ragazzi, se prendete qualche stop, dite ok, punto, punto, oggi faccio solo operazioni sui livelli già fintati, che dopo, avete visto, statisticamente, sono molto più potenti, poi adesso arriveremo anche con un segnale, anche su questa cosa qua, ok? Fra l'altro ho due segnali nuovi che dopo ne devo parlare, però, ragazzi, impegnatevi su questo, io in classifica non voglio più vedere questa gente che passa da più 180% a più 50%, non va bene, non si possono fare quei salti lì, ragazzi, non va bene, ok? Perché se no io prossimo mese non ve lo faccio fare, io voglio vedere costanza, voglio vedervi crescere piano piano, non voglio che chi è rimasto indietro, raddoppia la size, perché poi viene liquidato, ragazzi, non è possibile, lo scopo di avere questa gara non è questa, ok? Quindi se vedo che fate questi tipi di operazioni, ragazzi, io lo tolgo, il prossimo mese non lo facciamo, ok? L'ho già parlato con Bybit, ho detto, questa cosa deve essere una cosa educativa, se vedo che fate di questi numeri non va bene, ok, ragazzi, mi raccomando, ma voglio vedervi pubblicare, com'è che non pubblicano, non vedo persone che pubblicano ingressi sui livelli fintati, ragazzi, scrivetemelo in chat, come mai non state facendo queste cose? Sono le conformazioni con più percentuali di riuscita, eppure io non le sto vedendo, io non sto vedendo, ragazzi, che entrano sui livelli fintati, ragazzi, mi raccomando, dai, cercate di fare questa cosa, ecco, siete giocati, la pazienza dei bull, no, ragazzi, perché io non sono qua per giocare, ok? Io voglio vedere delle cose, non voglio vedere persone che stanno giocando, io quando vedo che si sta giocando, ricordatevi che io ho un altro lavoro da fare, ok? Io non sono youtuber, non sono qua per fare live su Twitch, io sono qua perché voglio che venga riconosco lo scalping, ok? Per far sì che si possa riconoscere dovete restare il più possibile, più persone che diventano profittabili, non più persone che puntano 20x tutto quello che hanno, se va bene, bene, se va male, vengo liquidato, ragazzi, io queste cose qua non le voglio vedere, ok? Non va bene, quindi voglio vedervi che rimanete concentrati, che capite che se siamo in burrano non dovete essere in FOMO, FOMO non vi serve a nulla, dovete semplicemente avere pazienza e cercare la conformazione, pazienza e cercare la conformazione, ok? Mi raccomando, relax, relax, oh, detto questo, detto questo, andiamo a vedere due secondi i nuovi segnali e poi dopo andiamo a vedere finalmente tirar fuori queste conformazioni 1000% e vi spiegherò che cosa significa, ok? E come cercarli, allora, perché cercheremo un po' la rotazione, due segnali nuovi, vedete? Abbiamo le stanze nuove, c'è novità, Daily Moon si chiama e incrocio, allora per chi ha visto l'ultimo webinar, l'incrocio sa già, perché sono i momenti in cui quando c'è un incrocio, andiamo a prendere un esempio a caso, qua sta, eh, time frame 5 minuti, abbiamo un incrocio fra, adesso, ecco qua, abbiamo un incrocio fra l'EMA, eccolo qua, prima un incrocio a scendere, quindi quando c'è un incrocio è difficilissimo che il prezzo vada a superare questo incrocio, ok? Quindi i rimbalzi sono ottimi livelli per andare short, ok? Ma se poi supera il livello per andare a fare l'antincrocio o per fare un incrocio inverso, sono molto potenti, vedete? Quindi io voglio sempre sapere quando ci sono degli incroci dopo che hanno fatto delle grosse salite, perché anche qua, al contrario, qua difficilmente andrà a rompere il livello dell'incrocio, ok? Andrà magari ad avvicinarsi e poi fare rimbalzo, ma se poi dopo crea una conformazione per rompere gli incroci, sono ottime perché fanno, vedete, una bella, eh, un bel rialzo. Quindi questo è il primo segnale degli incroci, poi farò un video che spiegherà meglio, eccetera, ma comunque se avete visto l'ultimo webinar questo lo spiego, l'esigenza del perché volevo questo segnale. L'altro ovviamente un daily, sapete quanto ci tengo io quest'anno a fare, già dall'anno scorso, nuovi segnali daily, questo si chiama daily moon, ok? Daily moon. Che cos'è il daily moon? Allora, qua stiamo lavorando con un minimo di intelligenza artificiale che ci tira fuori delle conformazioni, andranno sempre migliorate, per esempio questi, con questi spike qua non ci saranno più, però per esempio questo è ottimo, questo è arrivato oggi, IMX, questo è un daily, ecco, è un segnale daily sia long che short, ok? Ci indica un daily con una canalizzazione che, visto che siamo anche su Bybit, quindi abbiamo la possibilità di poter andare short, ci segnalerà qualche conformazione daily dove è ottimo andare long e dove è ottimo andare short. L'importante è che esce dal range, ok? Qua abbiamo un ottimo livello short che va a rompere l'EMA5 settimanale e qua abbiamo un ottimo long che è per andare a rompere i massimi, ok? Quindi questo è il nuovo segnale perché appunto ci dà la doppia possibilità sia long che short, ci segnala dei canali, quindi una laterizzazione, all'altura di quello rischiamo di andare to the moon o to the chest, ok? Dipende da che parte rompe. Questo è il nuovo segnale, poi ve ne parlerò meglio magari anche prossima settimana che qua abbiamo poco tempo, eccetera, quindi volevo infarinarvi due secondi. Allora andiamo a cercare questi 1000%, ok ragazzi? Sì sì, questo è il bullbot, questo fa parte del bullbot, ovviamente è a pagamento, non è una cosa gratis, è una cosa in più, ok? Abbiamo poche cose a pagamento, questa è una tecnologia. Allora andiamo a vedere, partiamo da Filecoin che mi state segnalando, anzi apriamo la lista, la lista 1000%, vedete non c'è nulla, lo andiamo a riempire noi, quindi andiamo a vedere, Filecoin cos'è? Fil, giusto? Voi scrivetemi solo i codici, ok? Questo è uno che mi piace, siamo in ritardo perché il livello l'ha già rotto, il livello era questo, però mi voglio far capire il ragionamento, ok? Io voglio trovare, quindi aiutatemi vi dico, io voglio cercare quelli che sono rimasti indietro, Filecoin è assolutamente rimasti indietro, ok? Assolutamente, allora fra l'altro andiamo a vedere da qua andare gli all time I, come siamo messi, c'è un 1000%, ok? Questo lo possiamo mettere, quindi File, anche se la conformazione ideale è già stata rotta, ok? La prima conformazione, però vediamo perché magari lo va a fintare, torni indietro e ci permette un ingresso, ok? Questo comunque è un mensile, andiamo a vedere nel settimanale, nel settimanale ha fatto diciamo il terzo tocco dell'EMA ed è già partito, nel daily, anche qua, vediamo dai, vediamo se lo può ritestare la 60, però lo aggiungiamo, questo è uno. Allora l'altro io guardavo il metaverso, quindi send, send, allora mettiamo il mensile, eccolo qua, eccolo qua, guardate qua la bellezza, guardate qua la bellezza, questo deve ancora, anche qua stiamo prendendo un 1100%, quindi va bene per la nostra lista, anche qua ce l'abbiamo perso da poco, ha fatto, qua invece aveva un bad, un minimo di conformazione ce l'aveva, però anche questi speriamo magari possa fare un terzo tocco, tra l'altro un livello già fintato, vi ricorda un qualcosa di quello che ho detto prima? Vi ricorda qualcosa? Ok? Quindi dopo sarebbe un livello fantastico, se è un livello fintato diventa ancora meglio, guardiamolo nel settimanale, oh settimanale bellissimo perché abbiamo la rottura della 60 e qua ci potrebbe creare questa bellissima resistenza per fare un terzo tocco, oh questo mi piace molto, quindi stiamo parlando di send, ok? Il metaverso che vi ricordate andava tanto di moda, adesso è stato messo da parte, ma se siamo veramente in un bull market la rotazione arriva, ok? Send e a sto punto dobbiamo andare anche su gala, dobbiamo andare anche su gala, no questo è gala, non è gala, aspetta eh, questo è gala, ma c'è gala, aspetta eh, non mi ricordo se è gala o gala, ah no c'è gala, ok, oh guardate qua anche qua, molto bello, vediamo se abbiamo il nostro 1000%, 1700, questo addirittura è il doppio, molto carino, anche qua siamo già partiti, non c'era la conformazione qua, c'era semplicemente la rottura della 10, ma non c'era un bad, vediamo settimanale, anche qua è già partito, vediamo se c'è qualche resistenza, oh sì, abbiamo anche qua una resistenza, ok? Quindi come send, questo potrebbe farci nel settimanale dare resistenza e quindi potrebbe andare a riposare per permetterci poi eventualmente un ingresso, ok? Aggiungiamolo anche gala, anche gala lo aggiungiamo, ok? Tia è indiettissimo, ok vediamo, ragazzi e se vi sto saltando, se vi sto saltando, riscrivetemile sotto, ok? Perché insomma non riesco a starvi dietro. Tia? No, vabbè, Tia to the moon, questo deve crollare, quindi no good. Buonasera Bull, guarda Dia, ah Dia forse, forse ho scritto male, Dia. No, Dia non c'è, Movr, Movr, ah Bonk è andato giù, Movr no, non sono quelli che sto cercando questi, eh? Comunque, aspetta, guardiamo il settimanale, comunque, comunque è interessante, eh? Questo è un bel settimanale, è testato alla 10, questo non lo mettiamo, però lo analizziamo comunque, questo è un bel livello, 38%, allora questo come daily normale, quindi non lo vado a mettere nella lista, un alert, un alert, aspetta che lo metto, già, già il cambio colore, già il cambio colore, questo è interessante, questo è un settimanale, eh? Nel daily stiamo andando a un terzo tocco, quindi molto bello, molto bello, terzo tocco, Movr, bella segna, allora andiamo a vedere, Tao, ragazzi, ma che succede che siete in 335, cosa succede? C'è FOMO per le canzoni, vero? Mi metti di buon umore e di conseguenza siete anche voi, allora che cos'è questo? No, assolutamente, vabbè, qua siamo nei daily, vabbè, questo comunque è un daily molto molto interessante, allora il livello dei corpi più alto di sempre è questo qua, abbiamo, quindi anche questo io lo tengo, ok? Non lo mettiamo nella lista dei mille, ma questo è un bel daily, è un terzo tocco al livello dei corpi, molto interessante, Tao, allora, TRB, vediamo, ah, sai dove andiamo a cercare? Adesso andiamo a cercare, cos'è questa roba qua? 400, no, questo è, allora, questo è fra quelli che vi chiedevo che hanno già fatto e sono andati giù, però questo ha fatto praticamente uno spike e basta, è tornato giù, quindi questo non mi piace, è bocciato, andiamo però, andiamo però qua, io voglio andare a vedere un attimo, ecco, fra la mia lista lo mettiamo nel mensile e vediamo se troviamo qualcosa, ecco, DOGE però fa parte dei meme dove siamo già, siamo in ritardo, però DOGE, DOGE il mese scorso o due mesi fa andava benissimo, SHIBA abbiamo visto, SHIBA rimasti indietro, aspettiamo la conformazione, ecco, Pepe e Flochi sono già andati, DOT, ecco, DOT l'avevo segnalato l'altro giorno, DOT, vediamo se poi abbiamo come percentuale, abbiamo un 450, non abbiamo il 1000, questo era bello però, questo era bello, siamo leggermente in ritardo, siamo leggermente in ritardo, dai, mettiamolo, vediamo se però torna indietro, ok? Lo mettiamo lo stesso, questo livello qua, anche se non è un 1000, non è un più 1000, ma è interessante, questo è il DOT, perché comunque stiamo parlando anche di un progetto interessante, no, crypto, ok, DOT, Bybit, Spot, Perpetual, qua, DOT, ok, DOT, sperando che appunto possa andare a ritestare e fare, diciamo, fare il manico, diciamo, qua siamo rimasti indietro, ok, andiamo a vedere, mensile, anche Matic, vediamo, Matic, niente male, vediamo, no, 160%, no, Avax, Uh, Avax avrebbe un livello, eh, Avax avrebbe un livello mensile, 200%, no? Fille, l'abbiamo già visto, bravi, LTC, qua non stiamo, ah, 90, 400, no, qua non stiamo parlando di, no, 300, non mi piace, allora, i cosi no, però CZ possiamo fare, CHZ possiamo fare, giusto? vediamo, vediamo se CHZ, CHZ, perché così abbiamo, vediamo se paga CHZ, 300, no, CHZ, no good, ok, a Luna, vediamo Luna, ok, Luna siamo, ah no, aspetta, aspetta, eh, Luna mi sa che, vabbè, che qua mi dà un daily col gap down, quindi non, eh, però Luna, Luna mi sa che lo dobbiamo mettere, aspetta, vediamo se becchiamo un altro, ah, facciamo così, vediamo, sì, Luna potrebbe essere che in un periodo di rotazione, Luna, Luna, Luna C forse, sì, Luna C, non spot, aspetta, Luna, no, questo, 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 non Luna C, vediamo, in mensile, oh, ok, qua ce l'abbiamo, qua ce l'abbiamo e qua stiamo parlando, oh, abbiamo anche un livello, qua stiamo parlando del 1100, questo mi piace, questo mi piace, ok, quindi momento di follia, fra l'altro siamo ancora, siamo in anticipo e abbiamo un livello, abbiamo il livello mensile già affentato, quindi qua siamo col timing perfetto, anzi, prima cancelliamo tutto, questo mi piace e siamo col timing perfetto e qua è crollato, quindi abbiamo delle percentuali esagerate, l'una, ok, ce l'abbiamo, vediamo nel settimanale, ok, sta lavorando alla 60 e nel daily, nel daily niente, è testato, vediamo, abbiamo quel livello lì, vediamo, lo andiamo a cercare, ok, qua, ok, l'una siamo in anticipo, quindi abbiamo tempo, ottimo, ragazzi, ma mi sta piacendo questa, questa cosa, studiamo l'insieme, bull run vuol dire questo, poi vedrete, ok, poi vedrete nel video che farò, che parlerò dei cicli di bitcoin, mi farò capire gli scenari del possibile bitcoin andrà a superare i 100.000 oppure no, il periodo in cui può durare la bull run, insomma vado a fare tutta una ricerca, tutta una ricerca per capire, ma quindi credi faranno 1.000%, no, io non credo nulla, credo, per esempio, andiamo su l'una, se bitcoin va a fare 100.000, 150.000, ci sarà la rotazione, ok, questa settimana qua avete visto, ci sono state le meme, ok, pepe, cose, quelle hanno fatto il to the moon, ok, poi va a rotazione, dopo ci sarà un altro settore, poi ci sarà, non so, il metaverso, poi ci sarà un altro, quindi se bitcoin rimane in questa fase e poi vedrete dall'altro video quanto può durare la bull run, ok, quindi se fa come gli ultimi tre cicli, ma vedete che ogni ciclo in realtà è diverso, ogni minimo è diverso, ogni massimo è diverso, la capitalizzazione totale è completamente diversa, cosa significa, quest'anno abbiamo avuto, abbiamo avuto l'etf spot, cosa significa, i mercati azionari, bisogna relazionarli, capire che cosa può succedere, ok, sarà un video molto importante, da lì capirete, ma noi non è che compriamo e diciamo, no, noi ogni volta che compriamo dobbiamo avere sempre uno stop e poi vediamo se questo vuol fare il 1.000%, deve passare da una conformazione, no, avete visto, anche bitcoin passa sempre da una conformazione, ok, non è che non lo fa, qua c'è una conformazione segnalata, qua c'è un'altra conformazione segnalata, ok, noi partiamo con la conformazione dove noi facciamo l'ingresso, ci deve essere una rottura, quindi accelerazione e rialzo che ci permette di mettere uno stop a zero o lì vicino, poi dopo lo teniamo pensando di tenerlo per la burrano, ok, il ragionamento ragazzi è questo, ok, questo è il ragionamento, non c'è il compriamo se va bene bene, se va male no, è ragionato su conformazione, stiamo cercando i livelli, lo stop ci deve sempre essere, nel caso in cui si viene stoppati, poi se torna al stesso livello, quello che vi dicevo prima è fintato e quindi abbiamo ancora più possibilità, eccetera eccetera eccetera, ma ricordatevi che la burrano significa determinate cose, significa correzioni veloci pesanti, significa rotazione, ok, e quindi con questo andiamo a sfruttare e cercare le conformazioni, ok, quindi l'una ci piace, poi, aspetta andiamo avanti a vedere quelli che avevo io in elenco, questo è rimasto indietro, questo cos'è, cvp, cvp, cancelliamo tutto, ha già fatto la rottura della 10, vediamo, 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 500%, siamo un po' indietro, ora paga un po' meno, one, one siamo in ritardo, vedete comunque qua la perfezione era quella di luna, che siamo ancora in tempo, ah qua c'è il 1000%, qua siamo parlando di one, ok, qua attenzione, ora vediamo se abbiamo qualche possibile finta, no, la finta l'ha fatto già prima, poi ha fatto il secondo tocco, qua è già andato, guardiamo il daily, niente, one è già andato, quindi niente, lo lasciamo andare, qua abbiamo il 1000%, no, 100%, non paga niente, LRC, qua abbiamo un livello, qua abbiamo un livello che viene un terzo tocco, questo mi piace, vediamo, vediamo se paga, qua abbiamo il 900%, questo mi piace e non siamo in ritardo, abbiamo un terzo tocco, ok, questo è un mensile, deve ancora passare il mese, ma comunque abbiamo un livello ancora che non ci è arrivato, nel settimanale abbiamo già un terzo tocco in atto, quindi questa settimana di riposo è ottimo, dopo abbiamo veramente un livello bellissimo, ragazzi, questo è bello, questo lo dobbiamo mettere LRC, LRC, andiamolo a mettere, 1000%, LRC+, poi ragazzi, ogni settimana andremo ad aggiornarci, andremo a vedere cosa stanno facendo, le conformazioni, ogni settimana a casa Bull, quindi vi raccomando, iscrivetevi, seguite, che andremo sempre analizzare queste cose, LRC, ok, allora andiamo veloci, dai, andiamo veloci a vedere se troviamo qualcos'altro, dopo analizziamo i daily normali, ok, non più in questa lista, abbiamo già messo alcuni, sono già contento che abbiamo già trovato delle cose anche non scoppiate, dove è LRC lì, mensile, anche qua abbiamo tempo, ma paga 500%, poco, Musk, attenzione, Musk, qua la conformazione c'è, 300%, troppo poco, ah, Jasmine, allora guardate qua, vedete, la DC l'ha fatto, poi è esploso, noi stiamo cercando queste cose qua, ok, quindi noi facciamo l'ingresso ad un livello, se funziona deve esplodere, non che deve fare così tanto, però già un po', in modo che noi dopo possiamo stare tranquilli mettendo lo stop a zero e non lo vendiamo, non lo vendiamo perché pensiamo al fatto di poter avere la bull run, poi nel prossimo video, quello lì, andrete a vedere cosa significa, quali sono le tempistiche, però il ragionamento è questo, cerchiamo la conformazione, facciamo l'ingresso, quell'ingresso lì, se è trigger, eccelera, non che faccia ogni volta il 300%, ma magari fa il 20%, non vendiamo, ma lo teniamo con uno stop ragionato, ok, e lasciamo correre, questo vuol dire, questo è quello che sto cercando, questo è già andato, ha già fatto il 300%, e c'è ancora il 1000%, ma Jasmine c'è ancora il 1000%, allora niente, questo lo possiamo vedere se fa un ritracciamento pesante, eventualmente le prossime volte, dai cerchiamo l'ultimo, oh questo è, questo è, questo è true, 1000%, ci siamo, conformazione, siamo un po' a ritardo però, siamo in ritardo, aspetta, vediamo se c'è un livello nel daily, no, niente, ah sushi, sushi, questa è proprio schifezza, delle schifezze, 1000% secondo me qua ci siamo, però anche qua siamo un po' a ritardo, sì qua 1300%, voglia, siamo in ritardo, siamo in ritardo, niente, allora guardiamo eventualmente, ah questo è il weekly, ah ma il weekly avrebbe un bad, weekly avrebbe un bad, dai questo lo possiamo mettere, lo possiamo tenere allora, quindi questo è sushi, questo è sushi, ok, dai guardiamo solo l'ultimo e poi dopo andiamo a cercare solo i daily, ok, perché non vi sto leggendo in chat, che sono concentrato su sta roba, sapete cosa, cosa voglio andare a vedere, qua ce n'è di tutti i tipi, voglio, voglio vedere, quelle delle scarpette, com'è che si chiama, cos'è, G, 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 ah G, M, T, quello delle scarpette dovrebbe essere questo qua, yes, allora vediamo, che io ho chiamato lo short a 4, 1300% ok, le scarpette ponzi, bene, ah questo è il mensile, oh qua la siamo indietro, qua abbiamo diversi livelli, abbiamo il livello già affintato, quindi già ci piace perché è già affintato, andremo quindi a un terzo tocco, ma qua sta già lottando per chiudere sopra la 10, molto bello, quindi abbiamo un livello anche in anticipo, un alert ci vuole, qua abbiamo tutte le caratteristiche per far parte, quindi G, M, T, per andare a far parte, G, M, T, del nostro 1000%, ok, bene, per adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allora mettiamo il verde su chi deve ancora partire, c'era l'una, poi chi c'era anche che deve ancora partire, allora mensile, 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 allora c'era giusto l'una, ah anche LRC, ok, abbiamo 3 che devono ancora partire, questi sono ancora partiti, magari aspettiamo la finta, ok? Ok, bene, ah il bignano non vede l'ora che parta, va bene, va bene, un saluto, un saluto a tutti, allora, niente, dai, torniamo invece come eravamo prima e andiamo a analizzare i daily normali, ok? Adesso vi leggo, mi fa piacere, mi fa piacere che vi piace questa nuova cosa, però se volete proprio farmi felice dovete fare gli ingressi più studiati e ragionati possibili, voglio vedere una marea di operazioni in chat dove entrate sui livelli già fintati, dove voi non siete entrati perché avete detto io aspetto le finte oppure siete entrati e poi siete, avete visto anche oggi ho pubblicato l'operazione dove sono entrato su un livello, era un bad short, non ha funzionato, ho chiuso in perdita, ho spettato e è ritornato a livello, sono entrato e ho straguadagnato, ho strarecuperato e straguadagnato, ok ragazzi? Io vi porto gli esempi, io vi faccio capire, però voi dovete dimostrare di essere forti, ok? Forti nel trading cosa significa? Significa che capite che non potete avere sempre ragione, ok? Non ho ragione io che lo faccio da 23 anni, potete mai avere ragione voi, ok? Quindi non abbiamo ragione nella vita, non abbiamo ragione nel trading, dobbiamo cercare di testare, testiamo il livello, funziona? Bene, lasciamolo andare a target, testiamo il livello, non funziona, usciamo, cerchiamo di perdere il meno possibile, se c'è da perdere si perde, chi se ne frega, se poi ci ritorna sappiamo già, no? Che la matematica ci aiuta tanto in questo ragazzi, ok? Dai in chat, scrivetemi ok? Scrivetelo in tanti in modo che capite che mi state ascoltando, perché davvero ragazzi, ho bisogno di avere, di vedere più maturità, ok? Ho bisogno di vedere che facciamo il salto di qualità, io non voglio vedere FOMO, ok? Non voglio vedere l'aumento di leve, non voglio vedere queste cose, grazie ragazzi, mi raccomando, mi raccomando, ok? Che così è più probabile che io rimango qua, ok? Perché se io vedo che non arrivano i risultati ragazzi, io vi saluto, ok? Detto ciò, Zec, che cavolo sta facendo Zec? Andiamo a vedere, ah qua non siamo ancora in all time I, però ovviamente non abbiamo ormai nessuna conformazione, qua è già andata, conformazione è già andata, e niente, Bonk invece è andato dritto dritto a fare nuovi all time I, questo l'avevo segnalato poi stamattina, Shiba rimasti indietro, molto indietro, quanto c'è ancora su Shiba? Dai massimi di oggi? Ah, 140%, niente, pensa te, poca roba, poca roba, però da questa conformazione, qua c'era un terzo tocco fintato, cioè fatevi l'occhio, qua stiamo parlando di un settimanale, un terzo tocco fintato, un tocco, secondo tocco con la finta, terzo tocco, cosa succede? Quindi se voi siete entrati qua, si usciva con lo stop quando rientrava, ma poi dopo si recuperava, direi, la grande. Da questa conformazione qua, quanto ha fatto? Ha fatto il 200%, ok? Quindi qua magari perdavate, che ne so, il 3, 4%, 3%, ma poi dopo facevate il più 230%, ragazzi, capite? Io vi faccio vedere gli esempi, però, che miseria. Allora qua, niente, nel daily deve riposare, ovviamente. Andiamo a vedere il time frame un'ora, se abbiamo un livello short. Ah, qua aveva fatto un bellissimo, vedete, anche dritto per dritto, mettete il time frame un'ora, questo è un livello bellissimo. Questo è un livello bellissimo, ha riposato, ha fatto di nuovo to the moon. Adesso abbiamo la 10 che comanda, vediamo. Questo spike qua, molto probabilmente, ci farà da ottimo livello short. Vediamo se lo va a testare un'altra volta. Rats. Dai, basta, basta cercare. Leggo voi, perché sennò non vi ho proprio letto. Bull, è rifatto diventare la base. Allora, ah, KSM, ok, KSM. Anche questo mi piace. KSM mi piace un sacco. Questo è rimasto indietro, se non sbaglio. No, vabbè, questo lo metto nei mille. A me questo piace un sacco, KSM. Questo è un 700, alla grande. No, no, questo lo mettiamo nei mille, alla grande. KSM. Alla grande lo mettiamo. E questo verde, perché non ancora abbiamo... Ha rotto la 10, quindi la prima conformazione c'è stata, ma adesso sta facendo, c'è a livello BAD. Questo c'è a livello BAD. Quindi qua si fa ancora in tempo, ok? Ovviamente qua siamo lontanissimi. Cioè, ricordate che qua siamo lontanissimi. C'è ancora un 12%. Però che succede? Se mettiamo a time frame un'ora, magari troviamo un bel livello. Infatti qua abbiamo un bellissimo livello. Un bellissimo livello testato. 1, 2, 3 volte con la finta. Quindi ragazzi abbiamo già le caratteristiche che voglio e che trovate. Ok? Abbiamo già le caratteristiche giuste. Dei livelli già fintati. Il daily. fa schifo, ma abbiamo un mensile decisamente interessante, ok? Decisamente interessante. Vediamo. Questo lo teniamo d'occhio. Ottima segnalazione. ICP. Vabbè, l'una abbiamo già trovato, l'uncì. Che direi che, insomma... ICP. Che d'è sta roba qua? ICP però è già fintato, ok? 300% quindi no, però, ok. Abbiamo un livello comunque nel mensile fintato. Questo è fintato, quindi è un bel livello. Vediamo il daily. Settimanale. Ah, settimanale terzo tocco, ok? Terzo tocco. Daily. Una coppa col manico. Dai, interessante, interessante. Possiamo mettere un alert anche qua. Siamo, i nuovi segnali che hai presentato saranno disponibili anche sul volbo attazionario. Sì, andremo poi ad ampiarlo, ok? Vi dobbiamo parlare con Andrea, ma sarà sicuramente da aggiungere. Non hai guardato l'uncì... Non hai guardato l'uncì, ma l'una. Ah, vabbè, insomma, quello che ho guardato. Ah, Bull, un giorno mi avevi detto che facevi un bad mensile. Penso che eravate un aumento. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Vediamo, dai, vediamo se riesco a fare un bad mensile e tenere per un mese. Vediamo. Non ce la farò mai, ve lo dico già, però insomma, non so mai. Vediamo. Allora, Reef. Andiamo a vedere, Reef. Questo è mensile. 300%, quindi no good. Però, della nostra lista, però andiamo a vedere. Settimanale, ha già rotto la 60%, vediamo il daily. Ah, il daily to the moon. La 60% era quello dell'ingresso. Siamo già triggerati, quindi niente. C, X, C, N. X, C, N. Ah, qua è stato segnalato mille volte. Ah, qua però siamo indietro. Oh, cosa mi avete tirato fuori? Cosa mi avete tirato fuori? Siamo in ritardo... Ah, no, non siamo ancora in ritardo con la rottura della 5. Chi ha scritto questo? PKPagu 92. Grande. Allora, intanto guardate che percentuale qua. Guardate che percentuale. Guardate che percentuale. 4.000 per... 4.000 per cento, ok. Livello, qua era un mega Viagra, livello fintato. Abbiamo, quindi, il livello per rompere finalmente la 5, per andare a target la 10. Già solo per arrivare la 10 è un 100%, 90%, quindi molto good. Il livello è questo. Qua paga tantissimo, quindi bisogna fare estremamente attenzione, bisogna cercare in altri time frame. Questo è il settimanale, magari facciamo una trecime, quindi magari questa è la seconda cima, scende, fa la terza cima. Quindi questo lo seguiamo. Questo è il daily, già partito la prima rampa, vediamo. Allora, questo lo aggiungo alla grande. Xcn, anche qua abbiamo poi una conformazione, abbiamo una conformazione che possiamo seguire, ok. Quindi mettiamo il tasto verde, ottimo. Poi, CLV. 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 No ragazzi, allora, visto che c'è tanta roba, facciamo solo quelli che sono anche su Bybit. Cheek, così li posso seguire. Mensile, molto bello, ha già rotto però. Qua siamo indietro, non pagava 287. Vediamo, quello è settimanale. Ah, il settimanale c'è la 60, ottimo. E ha funzionato, quindi abbiamo la resistenza, molto carina. Questo è il daily, ok. Infatti vediamo, col daily va bene, ha già fintato. Questo è niente male, quindi il livello trigger sappiamo già che dov'è, è prima della 60. Non volevo fare questo. Prima della 60. Ok, adesso ha bisogno di rinare a riposare, quindi qua potremmo anche avere un bel alert sulla 60, sulla 10. Fra l'altro, se va a testare la 10 nel daily, abbiamo poi la 5 sotto. Quindi in realtà, ecco, questo è ottimo magari per delle pescate, ok. Magari c'è qualche flash crash. Ecco, la prossima volta, la prossima volta ragazzi, ricordatemelo voi. Anzi, lo scrivo io, dai. Allora, casa bull. Mettiamo anche livelli flash crash. Quindi quando vediamo robe che crollano 20, 30, 40%, quel che è, magari va a trovare, va a toccare un ema daily importante, ok. Questo caso qua, per esempio, questo sarebbe un ema molto molto bello. Quindi magari va a fare un bel crollo e ci va a toccare proprio sui supporti importanti, ok. Dove possiamo tenere degli ordini sperando che crolli qualcosa a caso, ok. Qualche spike a caso ci fa sempre molto utile. Sempre sempre molto utile. Ah, come per esempio, adesso sto vedendo un yuup. Yuup. Dunque ragazzi, mi piace, vedi? A me piace tantissimo quando lavoriamo insieme, casa bull diventa anche, non solo rispondere, ma anche, non solo parlare di trading, ma anche cercare conformazioni, cercare settimanali, cercare di capire i ragionamenti. Quindi, sei una sala operativa a tutti gli effetti, questo è una figata. Oh, yuup, guardate quanto mi piace, cosa c'è avete qua? Come mai c'è un alert? Perché abbiamo un livello bad fintato. Questo possiamo togliere. E cosa abbiamo qua? Abbiamo anche gli all time I. Quindi abbiamo un all time I nelle vicinanze. Andiamo a mettere il livello. Abbiamo un all time I. Abbiamo un livello fintato prima di un all time I. Molto interessante. Guardate però a time frame, un'ora, che cosa ha fatto? È andato a testare, vedete, l'EMA. È andato dritto per dritto a testare l'EMA. Adesso è rimbalzato, giustamente è andato a testare l'EMA 10 nel daily. Vedete, l'EMA 10 nel daily e l'EMA 5 settimanale. Bello fresco. E vediamo se adesso questo livello è assolutamente molto interessante. Ed è già fintato. Ok, sapete che la matematica ci aiuta perché se già è stato fintato un livello, se ci ritorna è molto più probabile che possa funzionare. Ok ragazzi, quindi questo è molto carino. JUP E NJ Poi ragazzi, l'ultimi due minuti voglio rimettere su la canzone di Senior perché è di giorno. Lo balliamo tutti insieme però. Quindi ci sfoghiamo da, abituatevi a sfogarvi dalla sessione di stress con le canzoncine da Bull Family. Ok, li facciamo per quello, per mettergli di buon umore e nel frattempo ricordarsi le cose. Allora Questo è NJ Ah, però Però 700 Va bene, lo stesso Vediamo se ha già rotto il livello Sì, l'ha già rotto Passiamo indietro Ha già rotto Prima la conformazione di rottura della 10, quindi chiusero sopra Adesso avevamo questo Vabbè, vediamo perché questo potrebbe fare la finta Aggiungiamolo NJ Se fa la finta qua, diventa un livello fantastico Va bene, lo aggiungiamo E NJ Senza bandierina verde perché qua deve ancora Non abbiamo la conformazione E Ape Ape, ah giusto, bravo Ape, che stiamo parlando di Ape per eccellenza Sono gli NFT che veramente sono falliti Questo siamo assolutamente indietro Da qua agli all time I 1000% precise Perfetto, mi strapiace Allora Avevamo la conformazione Avevamo un livello Fintato qua Per romperla 10 Questo potrebbe essere il nostro ingresso Per lasciarlo correre Va bene Quanto è? 25% Vabbè, dobbiamo vedere se Adesso qua fa la finta Fa un baddo Fa una candela di rimposo Questo è un mese Adesso non abbiamo Vediamo settimanale Ecco Dobbiamo sperare che la 60 Quindi adesso magari va a testare Testare la 60 E poi dopo faccia la resistenza Dai, questo possiamo anche dire che Dobbiamo ancora avere una conformazione Dai, questo lo mettiamo Ape Con bandierina Anche se è un po' così Insomma, vediamo Sperando che la 60 No, dove era? Ecco, la 60 nel weekly Che faccia un po' da resistenza E ci permette Questa è bellissima Perché questo è l'NFT Il mondo completamente devastato Derubato Svuotato E adesso Rimbalzo ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ok, vediamo Ragazzi, un minuto e mezzo E poi facciamo partire la canzone Allora MDX Poi ragazzi Non finisce oggi Anche la prossima settimana Le prossime settimane All'infinito Anzi, la prossima settimana Sarà già uscito il video Quello dei cicli Dell'Alvin E capirete tantissime cose Quindi su quel tipo di ragionamento Potrete avere un'idea migliore Di cosa accadrà No, MDX qua Non ce l'abbiamo Quindi niente Sarà su Binance Non ci interessa Ah, YGG YGG Settimanale Good Vediamo il mensile Oh, qua Io vedo ancora Un bel livello chiaro Forse è stato anche Fintato In 1200% Qua ce l'abbiamo E abbiamo un livello Fintato Ok, dai Mi piace Abbiamo un livello Fintato Vediamo Nel settimanale Ah, sì Perfetto Per andare a fare Il terzo tocco Il settimanale Ok, questo mi piace Grande ragazzi YGG Bravissimi YGG È verde Perché deve ancora Fare la conformazione Molto bello Vediamo il daily Un attimo Esatto 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 Bello Bella segnalazione Ragazzi Ok, ci sia Manca un minuto Dai Balliamo gli ultimi due minuti La canzoncina Ci vediamo La prossima settimana Su Casa Bull Non perdetevi La puntata Il video Che pubblico Una settimana Sui cicli Di Bitcoin Perché questo Vi farà capire Meglio La prossima puntata Di Casa Bull Ok Quindi mi raccomando Iscrivetevi